posto a meno 10.000 dal primo posto, forse ce la posso fare No, non ce la posso far più Quarta posizione Ma che cavolo, è stato pazzesco, su serio? Oh grazie Devo trovare qualche altra corsa, ci vediamo in serio Sì 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 E se ti metti pure tu così però... Più o meno. Invece Amy? Sì, le ho appena parlato. Stava andando al bunker. Ok, beh, divertitevi. Salutamela. Ok. Va bene, bello. Adesso me ne vado al bunker. Rivedo le ultime corse di Ken. Cerco di capire. Ok, ci vediamo là. Ok, ci vediamo. Cazzo. Terzo posto, non è male comunque. Amico, beh, non capisco cosa ci veda Robby in te. Devi dimostrare di valere davvero. Forse la prossima volta. Lo so, lo so. Lo riconosco, sono andato abbastanza male per il Mr Hunter. たいo. Ho. Do. Lo so. Lo so.